Bentornati. Ma che sono pantaloncini? Sì, guarda. Aspetta un attimo che qua ha segnato il gradito. Sono pantaloncini? Sì, sono molto football girl, no? Cos'è? Football girl. Sono football girl. Senti, ma giochi dal primo minuto o li hai messi così? Sempre dal primo minuto. Ma sono bianco e neri o bianco e blu? No, sono bianco e neri ma non l'ho fatta apposta, era già deciso questo outfit. Cosa sono? Lo stylist che è buona suona? Va bene, comunque torniamo. No, è la mia Letizia De Meo, scusate. Senza fare i nomi, senza fare i nomi. Scusate, chi è che si era mangiato un gol? Perché quando parla Iori ho paura che mi sfotta sul Milan, ma è il Milan che ha fallito il traventura. Proprio lui? Ok, allora è vero, allora ti credo. Allora ti credo, sono ricominciati i secondi tempi. Luciano, in Serie B, che è il campionato, no? Che in ordine di importanza per noi è il primo, no? Perché in Serie A non ci sono pugliesi, speriamo di averne già dalla prossima stagione magari. Ma i valori, Empoli a parte, che penso insomma abbia fatto proprio pianeta, pianeta a sé istante. I valori sono stati chiariti o è una classifica sincera, come la vedi? E chi pensi che sta a creare il secondo tagliando? Beh, ci sono delle squadre ovviamente che già dall'inizio sono attrezzate, investono, spendono. Ma più che altro il Frosinone ha avuto un cammino un po' alterno, anche se comunque adesso in classifica hanno messo molto bene. Ma sono tutte lì, possono decidere le ultime partite. Il campionato è lungo, è strenuante, dipenderà molto dalla condizione fisica, dalla tenuta fisica in queste ultime partite. Ovviamente ci sarà qualche outsider in Serie B, di solito. Potrebbe essere il Bari. Domani sera, ad esempio, è una partita importante. Dipende il momento così. E Palermo come assorbirà questo cambio di allenatore, come reagirà? Sì, che curioso, per tempistiche è veramente curioso. Maurizio, tu accrediti molto il... Mamma mia, il Bologna. C'è una fagiolata incredibile da mettere. Per me la... Donnarumma ancora in giro? La squadra che in questo momento, anche se lì... No, non è il Parma. Ah no? Per me è il Frosinone. Ancora? Il Frosinone è la più accredita. No, è quella che sinceramente mi ha deluso più di tutto. Ah, ecco. Perché ha una rosa, secondo me, in assoluto la migliore. Ha fatto la Serie A. Rinforzandola, prendendo uno dei migliori giocatori della Serie B, che è Ciano, portando i tre davanti. Poi, nella campagna supplettiva di gennaio, ha preso due martelli in mezzo al campo. E devo dire che però ha avuto un'involuzione inaspettata, sinceramente. Che poi è la stessa dell'anno scorso. Sì, sì. Perché a fine campionato dell'anno scorso è la stessissima cosa. Poi, tra l'altro, adesso c'è il capitano, il bomber, c'è un fortunato. Beh, perché i risultati stanno dicendo che pesa moltissimo. C'è figura, è una difficoltà di far gol. Certo. Certo che, come diceva Alessio Casulli, che in un solo colpo però perdesse il Parma, il Palermo, il Frosinone, tutte in un solo colpo. Onestamente, chi se lo sarebbe mai potuto aspettare. Perciò dico, è impossibile che da qui alla fine del campionato possa ripetersi. Insomma, una combinazione così favorevole. Però, Alessio, come diceva Maurizio, ma credo anche Antonio e Luciano convenissero, se rivediamo il calendario del Bari, il Bari, quando non è costretto a fare la partita, vedi, anche con l'Entella, no? Gioca meglio. Gioca meglio. Sì. Tipo quella di Palermo, poi dovrà ospitare il Perugia, poi andare a Parma, che alla penultima probabilmente avrà solo la vittoria. Sì, diciamo, le prossime tre sono quelle più toste, perché Carpi fino a qualche settimana fa era considerato uno scontro diretto, però ormai possiamo ritenerlo fuori dai giochi. Quindi, scollinate queste tre, si spera che alla 42esima il Bari possa festeggiare qualcosa di importante. Vabbè, se no di blindare il miglior playoff possibile, perché anche il piazzamento sapete che è importante, che è importante proprio per avere qualche beneficio, qualche vantaggio. Noi speriamo subito nella promozione diretta. Beh, il campionato ha aspettato il Bari tantissimo. Sono due mesi che Palermo, Frosinone e in parte anche il Parma ti aspettano e ti dicono dai, ti stai diventando. Ma la vuoi? Devi venire con noi sì o no? La vuoi la Serie A? Quanti pareggi in termini ha fatto con la Provercelli, con lo Spezia? Con... Eh, tanti. Eh? Sì, sì, sì. Prima della vittoria contro Lentella arrivava da quattro pareggi consecutivi e questo ha in qualche modo pregiudicato il cammino del Bari, che comunque va detto, nelle ultime 14 partite ne ha persa solamente una. Ma sono i pareggi che pesano tanto. Va bene, ricordo ancora, domani sera vuoi dare tu l'appuntamento, Barbara? Alle 20 e 15 seguiremo questa partita fondamentale, Palermo-Bari, state con noi, mi raccomando, su Tele2, giusto? Tele2, nonché dalle 20 e 30 anche. TG Norba 24. TG Norba 24. Grande appuntamento. Intanto manca un'ora all'inizio di Lecce Paganese, lo dico ancora, lo ripeto sempre, il Lecce ha quattro punti dalle seconde, mancano due partite, quindi se vincesse con la Paganese potrebbe disinteressare, ce l'hai, mi sta facendo vedere, ce l'hai, ce l'hai, ce l'ha, ma non glielo chiedevo nemmeno. Ma com'è possibile? Prima l'ho visto, giocava al muro, quando ce l'hai e non ce l'hai, ce l'ha, ce l'ha, ce l'ho mi manca, ce l'ho mi manca. Casulli c'è emozioni, guarda. Sì, e ti devo dire, c'è una sorpresa, almeno per quanto mi riguarda, perché non giocherà dal primo minuto Capitan Lepore, che parte dalla panchina. Se vuoi posso leggerti. No, io sto aspettando che Bartolo Mucci elabori questa notizia. Io credo soltanto in Bruno Conte, non lo conosco. Allora Casulli, questa notizia, la cui attendibilità, non dobbiamo neanche compitare. Ma come importa a me, io ti credo, io ti credo, io ti credo Casulli. Vai, vai Casulli, vai. Allora, mister Liverani ovviamente sceglie sempre il modulo 4-3-1-2, e quindi tra i pali perrucchini la difesa è composta da Ciancio nel ruolo di terzino destro, i due centrali sono Cosenza e Marino, mentre legittimo sarà il terzino sinistro. a centrocampo Armellino, Arrigoni e Mancosu, Costa Ferreira sarà il trequartista, in avanti la coppia d'attacco e Saraniti di piazza. Beh, insomma, c'è un parco attaccante in Lecce che da solo vale quella classifica. Io andrei da Callia ad Altamura, vediamo un po' che succede in questo ambientino. Prima di andare, perdonatemi, salutare il ritorno in panchina di Davide, giocatorio del Lecce, il cui cognome adesso era in testa e scappato, che rientra dopo un infortunio di mesi e ritorna a fianco alla squadra il più giovane difensore di destra, si chiama Riccardi. Ah, benissimo, ben tornato. Nicola! Eccoci, ave, ave, amici, siamo sempre qui. Ave, amici. Riccus, dopo il fauno, questa volta sono qui con altre figure mitologiche, ma molto più reali, ovvero i falchi, perché ora ci sarà uno spettacolo di falconeria offerto dai nostri amici. Ci dica qualcosa? Sì, proprio così, insomma, la falconeria è un'arte antichissima che, grazie proprio a Federico II, arrivato ai giorni nostri, che ci ha tramandato questa modalità di lavoro con questi animali, dove nascono inizialmente, chiaramente, come caccia con l'uccello, quando l'uomo ha scoperto, insomma, che il rapace fosse quasi più efficace di un'arma, come un arco, una freccia e quant'altro, insomma. Però, allo stesso tempo, è un modo per mantenerci vicini a questo mondo, per sensibilizzare le persone e per affascinarci sempre di più dal mondo dei rapaci. Grazie, grazie, è stato molto chiaro. Fra un po' vi esibirete qui su questo palco, vedete dove c'è già il pubblico che è pronto per assistere a questo spettacolo, questo è l'altro falchetto. Hanno dei nomi questi falchi? Sì, certo. Gramma e Alfa. Ah, pensavo Gramma e Tica, Grammatica, no, ma non c'entra niente, non c'entra niente. Comunque, per citare Grignani, il falco va senza catene, sfugge agli sguardi e sa che conviene. Queste sono mie reminiscenze dell'anni 90, Grignani, canzone, il falco. Vabbè, no, cos'è, cos'è? Fai tu, non ti preoccupare. Faccio io, faccio io. Vabbè, però adesso fate voi, ragazzi, che c'è un pubblico che vi aspetta in bocca al lupo. Prego, prego. Anzi, viva. Viva il lupo, viva il lupo, viva il falco, spettacolo di falconeria e noi, Mauro, se volete vi ridiamo la linea oppure se volete possiamo anche intervistare dei personaggi, dei personaggi che sono qui proprio per questo, per assistere allo spettacolo. Sì, Mauro. Ti lascio la linea, però dobbiamo dire che è troppo importante, che la SPAL ha ribaltato, quindi adesso Verona 1, SPAL 2, praticamente isolerebbe subito dopo il Benevento, diciamo, alle residue pochissime speranze il Verona, invece verrebbe su molto forte la SPAL, si alzerebbe quindi la quota per il terzo ultimo posto, se facciamo in tempo a vedere la classifica con i tre punti alla SPAL. Visto io, 32 la SPAL, 31 il Chievo, il Verona è andato, 33 il Cagliari e 34 la Sampdoria. Eh, tutto la Sampdoria, l'Udinese. L'Udinese, 34, è il Crotone, Crotone e Udinese. E quindi è assolutamente una bagarre per l'ultimo posto per retrocedere, perché stiamo dando il Verona, insomma, a questo punto, diciamo, molto sfavorito in questa lotta per non retrocedere. Riusciamo a vedere la classifica, Buonasora, di Serie A, prima di andare ad Altamura, mentre si avvicendano le variazioni della Serie D, Maurizio ce l'ha detta a voce, arrivo Calia, aspettiamo solo la classifica di Serie A, se possiamo, eccola qua. Il Verona quindi adesso sarebbe a sette punti dalla salvezza e il Chievo penso per la prima volta in stagione e in questo momento praticamente virtualmente in Serie B. Spal con un punto sul Chievo, Cagliari 33, Udinese e Crotone 34, mamma mia. Nicola Calia, ancora la linea a te, Altamura. Eccoci, eccoci, siamo qui, allora, volevamo dire, ha segnato la Spal. La Spal, che mi importa a me dalla Spal? No, vabbè, per dire, per dire che... Ma la Spal? La Spalla? Mezza, la Spalla. Col Verona. Col Verona. E chi è il Verona? È una città di Romeo e Giulietta, vabbè, ma devono ancora arrivare, noi siamo nel Medioevo qui, Romeo e Giulietta ancora... E quindi? Noi non conosciamo Nespal. Comunque sento un rullo di tamburi. Stanno arrivando i falchi. Stanno arrivando i falchi, sta iniziando lo spettacolo di falconeria, grazie. Grazie, sentite questa atmosfera che inizia a diventare tambureggiante, inizia a diventare medievale ed eccoli spuntare i falchi lì all'orizzonte che adesso si alzeranno alti nel cielo. A differenza di Jonathan, che quello era un gabbiano che volava alto, eccoli qua, i falchi stanno per spiccare il volo. Stai sfoderando una cultura confusissima. Questa immagine. Eccolo. Eh sì, è una cultura a sprazzi. Ma che belli. Ho avuto i miei sette anni di liceo classico. Torniamo in studio. Sono immagini forti che faranno... Sì, sì, soprattutto quando c'è il tuo primo piano, guarda. Allora, facciamo una piccola... Luciano, mercoledì... C'è Bruno Conte? C'è Bruno Conte da Lecce. Abbiamo Bruno. Bruno Conte. Bruno. Traversa del Milan. Traversa del Milan. Ma non so mai se è vero o è bugia quello che dì, è vero? Traversa del Milan. Ancora buona avventura. Ciao Bruno. Ciao Bruno, via del mare! Sì, sì, sì. Lo vediamo ma non lo sentiamo. Attenzione. Scusa Bruno, noi non ti sentiamo. Sì, hai acceso il microfono. Chiediti. Eccolo, eccolo. Ti sentiamo Bruno, vai. Allora, mi sentite adesso? Sì. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Allora, un saluto da Lecce in una giornata di sole che potrebbe essere storica. Il primo match point. Meglio, meglio, perciò siamo andati un'ora prima. Così fino alle 5 e mezzo noi lo affiniamo questo collegamento perché la partita inizia a 17.30. Con Bruno ci sarà anche un bel immediato dopo partita perché abbiamo ancora un po' di tempo di vantaggio sul triplice fischio. Prendo tempo ma non lo sento. Ragazzi, mi dite quando è pronto adesso ritorniamo in studio. Ci colleghiamo dopo. Luciano, stavo per chiederti di Roma-Liverpool. È una partita pazzesca. Quei due gol perlomeno le hanno restituito un po' di senso. Un filo di speranza. Sì, sì. Il senso. Un replay della partita col Barcellona. Eh sì. Però la vedo dura. Stavolta, come ha detto De Rossi, a Barcellona avevamo capito che qualcosa si poteva fare anche se perdemmo 4-1. Ma fino al 5-0 invece c'è terrorizzato. Il Liverpool è una squadra diversa. Soprattutto davanti sono tanta roba. Speriamo che l'egiziano prenda un'influenza. Però fuori casa non è l'influenza. Però in difesa è vero. Questo è vero. Fuori casa il Liverpool anche nel campionato inglese. Perde di molto. Assolutamente. Se prende la prima sberla può andare in confusione. Questo lo sappiamo. Sono anche molto giovani lì dietro. Speriamo che fanno gol subito. Sempre stato così quando giocavi nelle coppe. Mi ricordo una partita. Roma-Ipswich. Vincemmo a Roma facile facile 3-0. Andammo a Ipswich. Eccolo qua. Gol del Bologna. Sì. Mo' che si sognano a travarlo. No vabbè dai. Maurizio dicevi che la partita con l'Ipswich? Correvano già prima dello spogliatoio. Correvano. La palla usciva dal campo. Correvano. Andavano a prendere la palla. Abbiamo perso 3-1. Se non fa gol fa il cao. Siamo cacciati fuori dal... Certo. Sono altre squadre nel vero senso della parola. In casa e fuori casa. E soprattutto l'energia che si trasmette nello stadio. Io sto un paio di volte ad Anfirrod. E c'è questa curva che all'inizio, come un'altra curva, niente da fare. Poi ti travolge. E ti travolge la cosiddetta copp, no? Sì. Questa curva. Ma è vero che ti stordisce proprio? No, no, no ti stordisce. Ti mette soggezione. Quando You Never Walk Alone, praticamente questa canzone, che a sentirla non ti dice niente. Ma a sentirla... No, non ti dice niente. A sentirla come musica. Sì, sì, però a sentirla là. Ascoltarla. Lì, è brividi. C'ho già la periodo che adesso, soltanto a pensare. Al punto che la prendono anche come stimolo tutti gli altri. La fanno anche in Italia. È una canzone meravigliosa. E lì è davvero difficile superare questo... Infatti c'è stato un momento, ragazzi... Attenzione che potrebbe essere una decisione pesantissima. Cioè? Non vorrei dire una cosa per un'altra. Mi sembra che ci sia la vara Benevento. Sì, sì. Un episodio molto simile a Ridicolo anche questo. Ridicolo. Ma se hanno annullato quel gol, è probabile che diano calcio di rigore qua. Allora, aspetta un attimo. Il paragone è con un gol annullato al Bologna. Esatto. Il rigore a chi è sarebbe? Sarebbe al Benevento. Al Benevento? All'Udinese, al Lecce. Eccoli qui, mi mancavano. Stavamo parlando di Roma-Livertto. Ma si può che io stavo parlando di Roma-Livertto. Roma e Benevento, c'è giallo-rosso entriamo noi. Mettetemi, 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 mettetemi. Basta, basta, basta. Guardate che fa rumore parecchio quello. Che volete della vita? E la partita? Ah no, la partita di Lecce è ancora... Siamo un po' tesi, eh. Siamo qui, stiamo aspettando. Le 5 e mezzo la partita. Allo stadio non ci andiamo neanche, prendiamo in considerazione. No, non c'erano biglietti più, non c'erano biglietti. Non c'era niente, non c'era niente. Meglio seguirla qui, no? Tra l'altro noi sappiamo già, noi, c'è io, Mauro, io, lui, Alessio, Luciano, te, sappiamo già come andare a finire la partita, ma sono segreti trapelati. No, no, non lo possiamo dire. E questa sera, e questa sera se va bene, ma comunque, dai, pizza e birra? Si festeggia, no? Ma tu pure, tu pure vieni. Ah no, 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 scusate, io sono a dieta. Tu sei a dieta. È per me insalata, eh, Barbara, tu mi capirai, insalata. Ma io anche. Come fai a mangiare insalata? C'è da dire che è particolare, cioè è complicato mangiare sano in questo periodo, con la crisi, l'inflazione. Cioè io ieri ho pagato una brasiliana 10 euro, eh. Minchia, a me me ne chiedono 50. Dove vai? Dove vai? Dove ne trovi, ste brasiliani? No, la brasiliana è la... Senti, è a colazione? È a colazione, fibra. Come fibra? Sì, avena, frumento e omega 3. Caccio di rigore? Scusate, ma è importantissimo. È importantissimo e noi ci tacciamo. Allora, scusate un attimo, mancano 15 minuti e a Benevento, però io non ho visto l'episodio, spero Paparesta l'abbia visto. C'è Ravar per un rigore al Benevento che gioca in 10, tra l'altro. Benevento all'uomo in meno. Non è che è successo, il rigore? Succede quello che avevo detto prima, e cioè che al monitor, ralentato, vedi cose diverse. Questa è la verità. perché dal vivo l'arbitro non era intervenuto e secondo me aveva fatto bene. Assolutamente. Perché è arrivato questo pallone a meno di un metro e si vede la mano del giocatore che vorrà andare verso dietro, quindi non ha nemmeno minimamente l'intenzione di colpire con la mano. Però è andato a vedere VAR, ha ralentato e calcio di rigore. A parte il fatto che gioca in 10 contro 11, andrebbe in vantaggio, ma c'è tempo ancora. Però l'Udinese che inanellerebbe l'ennesima sconfitta andrebbe a 33. Sarebbe proprio coinvolta. Intanto seguiamo il calcio di rigore, assegnato al Benevento, però veramente ragazzi... No, non stanno in cielo e in terra. No, veramente ragazzi... È cambiato radicalmente. È un altro sport proprio. Alla fine potrebbe pure sbagliarlo sul calcio di rigore. Sì, sì, dubbiamente, però... Fa gol. Ma segno di Lecce! Non è Lecce! Non è Lecce! Noi vediamo il giallorosso e anche... Questo giallorosso! Un applauso lo stesso al Benevento! Dai, trombettiamo, trombettiamo! Partivaremo, partivaremo! Dopo dalle 5 e mezzo! Secondo me, è un altro fuso! Che c'è Lucina che mi ha indicato? Non neanche visto. È un altro fuso, è un altro fuso. Scusate, grazie al cielo avevamo interrotto. Intanto guardate l'Udinese. In questo momento l'Udinese ha due punti sulla permanenza in A ed è ferma a 33 punti da novembre, credo. Se non sbaglio, il mago Udini ti fava Udinese. Sì, grazie a tutti! Pubblicità! Così imparate!